Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e in questo video andrò a consigliarvi 10 manga da regalare a Natale. Mi sono appena reso conto che l'anno scorso non ho fatto questo video, non so per quale motivo, e niente, quest'anno lo faccio. Anche perché ultimamente stanno uscendo tantissimi manga, cioè una roba incredibile, e quindi voglio consigliarvi alcune cose da regalare. Oggi cercherò di darvi consigli leggermente più mirati. Diciamo ci saranno diverse tipologie di serie che vi consiglio in questo video. Prima di cominciare vi ricordo che se vi siete persi i video del Luca Comics, dovete andare a vederli, li trovate nella playlist, è uguale alla video collezione manga, quella la trovate anche nella home del canale. Se siete nuovi invece iscrivetevi. O meglio, intanto guardatevi anche gli altri video e poi se vi va iscrivetevi. Detto questo direi di non perderci in chiacchiere e di partire. Partiamo con un volume che in questo momento non ho, ovvero Così Carina Volume 1. Ancora non ce l'ho perché ora che sto registrando il video non è ancora uscito, però forse quando lo vedrete voi sarà già uscito, comunque dovrebbe uscire in questi giorni, forse proprio oggi che state guardando il video, chi lo sa. Mi sembra Esca al 16, però comunque è della Goen, sicché ho già detto tutto, vediamo quando uscirà effettivamente. E perché allora me lo consigli, Maki, vi chiederete? Perché Così Carina è il manga di Tonikaku Kawaii, un anime tipo della stagione autunnale del 2020 mi sembra, che io ho veramente adorato, è stato bellissimo per me, quindi ve lo consiglio. Di cosa parla? Una ragazza salva un ragazzo che stava per essere investito da un camion. I due si sposano, così, subito, poco all'inizio, e iniziano a vivere insieme. E quindi, cioè, la storia, diciamo, parla di questa coppia che si è sposata così appena si sono conosciuti e iniziano a vivere insieme. Sembra banale come trama, diciamo, però in realtà è molto molto carino, quindi vi consiglio il primo volume. Può essere un'ottima serie da regalare a chi ama, per esempio, gli shoujo o gli anime, animo manga sentimentali, così. Ovviamente dovete guardarvi anche l'anime, però io sono qua per consigliarvi manga oggi e vi consiglio il primo volume di Così Carina. L'anime si chiama Tonikaku Kawaii. Seconda serie che vi consiglio, Togenanki. E no, non ve lo consiglio per il blind pack in cui l'hanno venduto, perché sicuramente tutti avreste sentito parlare di Togenanki ultimamente solo per il blind pack, che è quel pacchetto in cui dentro potevi trovare o la regular, questa qua, o la variant limitata a mille copie, o la variant limitata a cento copie. In pratica trovavi sempre la regular. Quindi un'altra truffa delle case editrici per farti comprare manga e per farti spendere e per guadagnare. Cosa che ho odiato, io da bravo idiota l'ho presa lo stesso. Poi l'ho letto, questo primo volume, mi è piaciuto molto e oggi sono qua per consigliarvelo. Quindi ve lo consiglio perché è bello il volume e non perché c'è il blind pack. Certo, ovviamente dovrete prenderlo nel blind pack e se avrete fortuna troverete anche la variant, ma fortuna, fortuna, fortuna. Però io ve lo consiglio principalmente perché la serie mi è piaciuta. Allora, è diciamo un classico shonen e ho trovato molte somiglianze anche con Naruto e Jujutsu Kaisen. Però comunque l'ho trovato molto bello, a me questo volume è piaciuto molto. Anche i personaggi sono molto fighi, vi faccio vedere anche un po' i disegni che mi sono piaciuti parecchio. Sia come disegni, sia come impostazione delle tavole. Ecco, lui ragazzi è fantastico questo personaggio qua. E' fantastico. Poi appunto adesso non sono ancora spoiler perché, cioè non sono veri e propri spoiler perché appunto è il primo volume. Quindi, cioè non si possono considerare veri e propri spoiler. Vi faccio, ecco vedete anche questi personaggi qua. Vi faccio vedere un po' i disegni. Tra l'altro c'è un personaggio che è uguale a, ecco lui, che è uguale a quello di Jujutsu Kaisen, come si chiama? Comunque ragazzi, Togen Anki può essere un ottimo regalo per gli amanti di shonen o di serie di combattimento così, quali appunto Naruto o Jujutsu Kaisen, che ho rivisto molto in questa serie. Però in generale, se conoscete qualcuno a cui piacciono gli shonen, questa è una buona scelta. Sempre sulla linea shonen abbiamo Meshul. E qua vi dico, se conoscete qualcuno a cui piace One Punch Man e Harry Potter, regalateglielo. Perché questo è letteralmente Saitama, lui è uguale a Saitama, nel mondo di Harry Potter, in un mondo in cui usano la magia. È divertente, fa ridere, è anche molto figo. Mesh, lui il protagonista, è il personaggio più demenziale che esista. Motivo per cui lo paragono a Saitama, anche se lui forse è anche peggio, molto peggio forse. Comunque Mesh era una serie che, insomma, è uscita già da un po' in Italia, da più di un anno, e comunque ve l'ho già parlato in diversi video. Adesso siamo arrivati al volume 8, quindi non è nemmeno poi così lunga per adesso, però durerà una quindicina di volumi minimo, se non di più durerà. Però, comunque, ve la consiglio, perché per me è molto bella. Ogni volume migliora sempre di più. Poi, comunque, ragazzi, ne ho parlato in tantissimi video, anche nei videoacquisti, e quindi se volete qualche informazione magari andatevi a vedere i videoacquisti, che anche quelli sono tanta roba. Per gli amanti dell'Echi, invece, vi consiglio Darling in the Franks. Vi dico solo che è dell'autore di Tool of Roo, e ha fatto anche un altro manga che si chiama Ayakashi Triangle, qualcosa del genere, se lo conoscete, non lo so. Ovviamente non ve lo sfoglio per farvi vedere i disegni, perché, insomma, non è proprio il massimo sfogliarvelo. Per me più che altro perché poi mi bandano il video. Vi basti sapere che è dell'autore di Tool of Roo. Comunque sia, si è appena concluso in Italia col volume 8, quindi non è una serie neanche troppo lunga, e potrebbe interessarvi. Se vi piace l'Echi, o comunque se conoscete qualcuno a cui piace l'Echi, potrebbe essere una buona scelta, diciamo, per un regalo da fare. Passiamo adesso a delle serie più vecchie, che però adesso stanno ristampando, e che quindi sono delle buone occasioni per recuperarsi appunto quelle serie. Direi di partire con Claymore. Claymore è dello stesso autore di Ariadne, quindi se vi piace lo stile di disegno di Ariadne, come questo è uguale, anche se in realtà trovo qualche differenza. Adesso ve lo sfoglio un attimo. Queste tavole mi piacciono molto, sono molto... non lo so, mi piacciono. Le trovo leggermente diverse e comunque mi piacciono molto. Guardate, non è male. Poi, in confronto, cioè rispetto all'edizione vecchia, questa vedete ha la costina diversa e la sovracoperta, quindi costa di più, costa 5,90. Cioè, 5,90. E adesso, dall'anno nuovo, insomma, inizierà a costare anche 6,50, con l'aumento dei prezzi e tutto. Mi sa che a breve farò un video anche su questo argomento, perché non mi va giù. Comunque, Claymore è anche considerato Berserk, versione femminile. Ovviamente io non penso proprio sia come Berserk, cioè arrivare a essere come Berserk ce ne vuole. Io non l'ho letto Berserk, ma so quanto è bello, famoso e tutto, e dubito che Claymore possa raggiungerlo. Però chi lo sa, non avendo letto ancora tutto Claymore e non avendo ancora letto Berserk, chi lo sa. Comunque, se vi piace Berserk, magari datevi un'occhiata anche a questo. Io comunque personalmente preferisco l'edizione vecchia, però, visto che comunque magari è difficile trovarla, se vi va bene anche questa edizione, comunque se volete recuperarvelo, questa è una buona occasione. Anche se costa leggermente di più. Però magari voi regalatela a qualcuno e poi, se a quella persona piace, se lo continuerà, oppure si prenderà la serie vecchia, deciderà poi quella persona lì, insomma. Il primo volume dovreste trovarlo insieme alla cartolina di Ariadne, perché nel quindicesimo volume di Ariadne, sentite la solita stronzata per far spendere la gente, nel numero 15 di Ariadne c'era la cartolina di Claymore. Nel numero 1 di Claymore c'era la cartolina di Ariadne. Però, insomma, era per dirvi che lo trovate ecco in quel pacchetto lì. Però è comunque solo il primo volume, allo stesso prezzo, quindi va benissimo. Un'altra ristampa che ragazzi vi straconsiglio, i Cavalieri dello Zodiaco Final Edition. Se conoscete un amante dei Cavalieri dello Zodiaco, questo volume regalateglielo, ma anche se ha tipo tutta la serie se ce l'ha di già, questo volume per collezione ci sta, perché è troppo bello. O in generale, anche se qualcuno non l'ha letto, è sempre una buona scelta per regalarglielo, perché è una serie davvero bella. Io sto guardando adesso l'anime e ho intenzione di leggermi anche il manga, perché so che ci sono delle differenze, però è veramente bellissimo. Ma poi guardate questa edizione, guardate dietro, con l'armatura di Pegasus e Pegasus in copertina. Poi nel secondo volume c'è Sirio in copertina, il dragone e l'armatura del dragone, quindi proprio bello. E poi queste parti qua dell'armatura sono lucide, non so se vedete, vedete? Riflette l'armatura, come se la luce riflettesse proprio sull'armatura d'argento. Bellissima. E poi comunque adesso ve lo sfoglio, per farvi vedere un po' vi salto la prima parte e poi vi dico perché. Guardate. Il manga dei Cavaliere dello Zoriaco. I nomi sono diversi rispetto all'anime doppiato in italiano, però comunque ci sta leggere lo stesso, cioè sono i nomi originali. Qua poi c'è scritto il primo volume, il primo numero di questa splendida edizione, sottolino splendida edizione, hanno ragione, include anche l'episodio Zero, finora mai pubblicato in volume e apparso unicamente su rivista Champion Red. Quindi qua avete una cosa in più, che insomma ci sta un sacco. Poi l'edizione è bellissima, guardate la costellazione qua sotto, bellissima. Questo ragazzi è veramente fra le cose che più vi consiglio. E costa solo 7€, dico solo perché comunque è una serie, cioè vedete come è fatto questo volume, di soliti i volumi così costano anche più di 10€, invece questo costa 7€ per adesso, poi vedremo da gennaio con l'aumento dei prezzi, però costa 7€, quindi ci può stare. Poi un'altra serie che vi consiglio, solo perché la stanno ristampando in questi giorni ed è difficilissima da trovare, Buonanotte Poon Poon. Non si vede Poon Poon, eccolo qua, un po' in rilievo, bellino. Questa ve la straconsiglio perché vabbè ragazzi è un capolavoro, è bellissima, cioè non se ve la volete recuperare, dovete recuperarvela. E adesso io ho visto che non trovavo alcuni volumi, ho aspettato la ristampa, adesso la stanno ristampando e vi dico affrettatevi a prenderla. È una spesa, lo so, sono 7,50€ per 13 volumi, però ragazzi ne vale veramente la pena perché la serie è bellissima. E poi rischiate di non trovarla più, perché io tipo il volume 5 e il volume 8 ci ho messo mesi e mesi e mesi e mesi per trovarli. Quindi quasi un anno perché non erano più da nessuna parte, erano rarissimi, cioè neanche su internet si trovavano più. Ora le hanno ristampate e le ho presi, ma è comunque difficilissimo trovare la serie. Quindi affrettatevi a prendere volumi se vi interessa perché appunto è difficile trovarla. Anzi, a breve rischerete di non trovarla più, nonostante l'abbiano appena ristampata. E poi Buonanotte Poon Poon è un capolavoro, è veramente bellissima, ma capolavoro assoluto da leggere assolutamente. Passiamo adesso ad altre serie un po' più impegnative a livello di prezzo. Diciamo, se per voi il prezzo non è un problema, vi consiglio anche queste serie qua, che sono più che altro delle Perfect. Ovviamente io non ho nemmeno una, perché appunto si parla di prezzi alti, io non ho nemmeno una. La prima che vi consiglio, forse la più bella, è Kenshin. Kenshin Samurai Vagabondo è una Perfect davvero bellissima e comunque è una serie altrettanto bella. Io ancora non l'ho vista, ma è famosissima, tutte le persone che l'hanno vista la... cioè, dicono che è... che sia bellissima, l'adorano. Ed è una buona occasione per recuperarsi una serie che comunque ha fatto la storia. Anche perché una Perfect così bella la trovate raramente. E poi costa 10 euro. Esce ogni due mesi, quindi diciamo è sì impegnativa, ma alla fine è come prendersi un manga a 5 euro ogni mese, diciamo. Per dirvi costa meno di Claymore. Poi, altra ristampa in un'edizione molto bella, Yu-Gi-Oh! Per chi aspettava il manga di Yu-Gi-Oh! questa... ah, per chi aspettava il manga di Yu-Gi-Oh! e per chi ha soldi, sottoviniamo. Questa è veramente l'occasione per recuperarselo. Saranno tipo 13 volumi, mi sembra, cioè 3 volumi in uno, quindi è tipo grossa così, però... cioè, formato normale, però larghissima. E costa 14 euro e 90, o e 50, non mi ricordo, comunque 14 euro, diciamo 15 euro. Quindi è tanto, lo so. Anche quella esce tipo ogni due mesi, quindi come comprarsi un manga da 7 euro e 50 al mese. Però ragazzi, è proprio l'occasione per leggersi Yu-Gi-Oh! Se conoscete qualche appassionato di Yu-Gi-Oh! o anche che gioca a Yu-Gi-Oh! provate a regalargli anche il manga, magari gli piace, si appassiona anche al mondo di manga, chi lo sa. Per chi invece cercava il manga di Yu-Gi-Oh! da tanto tempo, questo ragazzi è obbligatorio. E infine, l'ultima perfect che vi consiglio, quella di Evangelion. Anche qua si parla di 15 euro a volume, lo so, è tantissimo ragazzi, infatti io non ce l'ho anche se vorrei prenderla. Poi le perfect stanno uscendo tutte adesso, ma com'è possibile? Cioè, non posso stare dietro a tutte, magari se fosse una potrei anche farci un pensiero, ma non tutte. Però comunque Evangelion ve lo consiglio perché è un capolavoro, indiscusso, lo dicono tutti. Io anche questo purtroppo non l'ho letto, però si sa che è un capolavoro, cioè è un fatto. E poi saranno solo 7 volumi, quindi è vero 15 euro a volume, però saranno solo 7 volumi, ne esce uno ogni due mesi. Quindi anche Evangelion ha una buonissima serie da regalare, diciamo. Piccolo bonus, una serie che vi avrei consigliato anche l'anno scorso, bellissima, che è uscita più di un anno fa. Inuyasha, la perfect di Inuyasha. Quella è veramente una delle perfect più belle che io abbia mai visto. È veramente fatta benissimo, ci sono anche delle parti dorate, quella è troppo bella. Se conoscete qualcuno che ama la Takashi o che è un grande fan o che ama anche solo Inuyasha, quella è obbligatoria. 9-10 euro a volume, un volume esce ogni due mesi, diciamo, però ne vale veramente la pena perché è bellissima. Bene ragazzi, queste sono le 10 serie che vi consiglio, 10 più bonus, serie che vi consiglio di regalare a amici o qualcun altro appassionato di manga, anime e così. Comunque, 10 manga da regalare a Natale. Fatemi sapere cosa ne pensate delle serie che ho consigliato, se le avete lette, non lo so, ditemi un po'. Consigliatemi altre serie voi, qua sotto nei commenti qualche serie che secondo voi bisogna aggiungere a questa lista, così magari gli altri poi lo vedono e potrebbero, diciamo, prendere spunto anche dai vostri consigli. Qua sotto nei commenti, mi raccomando, scrivetemelo. Fatemi sapere anche se vi sono stato utile con questo video, se regalerete qualcuna delle serie che ho consigliato. E niente ragazzi, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale, passate dal profilo Instagram, attivate la campanellina e niente ragazzi, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga!